Sei il fortunato proprietario di un computer con Windows 10 installato, la fine del supporto tuttavia si avvicina e tu non sai proprio come fare se vuoi continuare a tenerlo. E beh, te lo faccio vedere io. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Disclaimer, i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Innanzitutto ti chiedo scusa se oggi mi sentirai parlare con una voce ancora più da cornacchia del solito, ma sono alcuni giorni che sono raffreddato, ero quasi completamente afono e sto andando avanti a suon di tisane e caramelle per la gola, ma se non altro almeno è una buona scusa per mangiare qualche caramella. Ma veniamo a noi. Come ben sai, a brevissimo scadrà il supporto per Windows 10 da parte di Microsoft. Tantissimi sono gli utenti che stanno già pensando a come correre ai ripari e naturalmente la maniera più semplice è quella di passare a Windows 11. Nel caso di macchine non supportate abbiamo già visto un paio di metodi per passare a Windows 11 senza problemi anche su queste macchine e qualcuno ti anticipo già che lo vedremo a breve per tutte quelle macchine che sono rimaste ancora tagliate fuori. Ma se tu, come fanno anche tanti miei clienti, volessi invece continuare ad utilizzare Windows 10 anche dopo la fine del supporto, cosa dovresti fare? Andiamo a vederlo insieme. Cominciamo però con l'inquadrare bene il problema. Leggiamo direttamente che cosa ci dice Microsoft sul suo sito. Il supporto a Windows 10 terminerà, come ben sappiamo, il 14 ottobre 2025. Questo cosa significherà? Che di fatto Microsoft non fornirà più aggiornamenti software gratuiti tramite Windows Update. Non fornirà nemmeno assistenza tecnica o correzioni di sicurezza per Windows 10. Quest'ultimo problema, come vedremo a breve, ovvero quello delle correzioni di sicurezza è quello principale che ci troveremo ad affrontare. Tuttavia veniamo anche rassicurati. Infatti Microsoft ci dice che il PC continuerà a funzionare ma è consigliabile passare a Windows 11. Hai capito lo zio Bill? Naturalmente però in quello che dice lo zio Bill c'è anche del vero. Infatti, come ci dice anche Hardware Upgrade, quello che succederà a partire dal 15 ottobre 2025 sarà che la fine del supporto per Windows 10 non si tradurrà in una immediata obsolescenza dei nostri dispositivi. Tuttavia nel tempo emergeranno una serie di problematiche sempre più evidenti. Infatti, senza aggiornamenti di sicurezza, i nostri sistemi diventeranno progressivamente più vulnerabili a tutte quante le nuove minacce informatiche e con il passare del tempo gli sviluppatori di software e anche i produttori di hardware potrebbero smettere di supportare Windows 10 rendendo difficile l'utilizzo di nuove app e anche di tutto quanto il nuovo hardware che dovesse uscire in seguito. Tuttavia il vero problema per quanto ci riguarda sono le vulnerabilità. Ebbene sì, ho sentito dire da tantissimi membri della community e per la verità anche da tantissimi miei clienti che basta avere un buon antivirus oppure un buon antimalware per far fronte a questo problema. Ebbene non è assolutamente vero. C'è una differenza abissale tra un virus o un malware che sono dei file o dei pezzi di codice che vanno a finire sul nostro computer e possono danneggiarlo oppure rubare delle informazioni e delle vulnerabilità. Le vulnerabilità consentono infatti ad un malintenzionato di eseguire del codice da remoto sul nostro computer che era completamente arbitraria e questo comporta il fatto che il nostro computer sia letteralmente una porta aperta per chi sa sfruttare una vulnerabilità e l'antivirus non può farci assolutamente un bel niente. Guarda questo elenco che ti ho preparato. Sono tutte quante le vulnerabilità a partire dal 1 gennaio fino ad oggi che hanno riguardato Windows 10 in qualche modo. L'elenco è lunghissimo, potrei continuare a scorrere tanto e tanto e tanto altro tempo ancora ed è inutile fare discorsi del tipo che Linux, Mac OS eccetera eccetera siano immuni da questo. Tutti i sistemi operativi pubblicano periodicamente degli aggiornamenti e questi aggiornamenti servono a risolvere questo problema e tamponare queste falle. Senza gli adeguati aggiornamenti non c'è alcuna misura che tenga. E allora noi che cosa facciamo? Ebbene di fronte a questo grido di allarme di tutti quanti gli utenti di Windows 10 mamma Microsoft non rimane insensibile ma contemporaneamente le si allungano i canini. Infatti quello che ci propone è una cosa che si chiama ESU ovvero Extended Support Update. Di che cosa si tratta? Ebbene si tratta di pacchetti che ci consentono di ricevere gli aggiornamenti per Windows 10 anche dopo il termine del supporto. Ma naturalmente questa cosa è in un modo o nell'altro a pagamento. Ne esistono tre versioni. La prima ha una chiave di attivazione che ti viene mandata al costo di 61 dollari ogni anno per singolo dispositivo. La seconda invece è inclusa gratuitamente in tutte le sottoscrizioni di Windows 365 a patto di mantenerle per almeno un anno o più naturalmente. La terza infine prevede uno sconto del 25% rispetto alla prima. Costa infatti 45 dollari per singolo utente ma consente di coprire solo per il primo anno fino a 5 dispositivi. Tuttavia anche in questo caso la Microsoft ci avverte a chiare lettere. Ci dice infatti che l'Extended Support Update non deve essere considerato assolutamente una soluzione a lungo termine ma piuttosto un ponte temporaneo durante la transizione ad una versione di Windows più recente. Insomma di Riffa o di Raffa vuole che passiamo a Windows 11. Tuttavia l'Extended Support Update di Microsoft non è l'unica soluzione possibile al problema e detto tra noi neanche la migliore. Se ben ricordi in un video, tempo fa, te lo lascio linkato qui in alto, abbiamo parlato di un servizio che si chiama Zero Patch. Che cosa fa Zero Patch? Offre delle patch in tempo reale per tutti i problemi di sicurezza del nostro computer. Insomma funziona un po' come Windows Update solo che è in realtà molto più veloce. Ma c'è di più. Zero Patch è anche gratuito nella sua versione di base, può essere tranquillamente installato ed utilizzato su Windows 10 e non richiede nella maggior parte dei casi nemmeno il riavvio del computer per poter applicare le patch. Insomma basta che tu tieni attivo questo programmino sul tuo PC e naturalmente tutte quante le patch di sicurezza arriveranno in tempo di record e questa a mio avviso è già la soluzione migliore per risolvere il problema relativo a tutti quanti gli update mancanti di Windows 10 a partire da ottobre 2025 in poi perché a differenza di Microsoft questo servizio non dovrebbe mai arrestarsi. Tuttavia come sottolinea la rivista Il Software nel caso di Windows 10 per essere certi di ricevere veramente tutte le correzioni indispensabili sarebbe necessario stipulare un abbonamento che costa 25 o 35 euro a seconda che si sottoscriva il piano PRO che è quello che ti consiglio se sei un privato o una piccola azienda come dice anche la rivista Il Software oppure quello Enterprise che serve però per organizzazioni di media e grandi dimensioni. Altri due suggerimenti vanno tuttavia tenuti in debita considerazione il primo riguarda la cosiddetta segmentazione della rete ovvero il fatto di separare tutte quante le macchine Windows 10 che possiamo avere nella nostra rete domestica o di ufficio rispetto alle altre macchine più aggiornate infatti queste macchine Windows 10 nonostante tutte le precauzioni che noi possiamo prendere possono rappresentare comunque dei facili punti di attacco che consentirebbero a dei malintenzionati di andare a colpire anche macchine più recenti quindi con Windows 11 o altri sistemi operativi. Questa segmentazione della rete può essere fatta a livello di router oppure anche a livello di switch tuttavia il mio consiglio da tecnico è quello di chiamare un qualche mio collega nella tua zona e farti aiutare in quest'operazione non esattamente semplicissima. Ulteriore consiglio derivante sempre dalla rivista Il Software è quello di disattivare l'anteprima in Esplora File. In questo modo possiamo evitare che eventuali file infetti che dovessero arrivare sul nostro sistema possano effettuare qualsiasi attività malevola senza neanche il bisogno di fare il classico doppio clic. Per disattivare l'anteprima quello che dovremo fare su Windows 10 oppure su Windows 11 la procedura è assolutamente identica e portarci qui in basso dove abbiamo la lente di ricerca oppure la barra di ricerca, cliccarci su, digitare al suo interno CMD, scegliere questa icona, cliccarci con il pulsante destro e scegliere la voce Esegui come amministratore. Accetteremo con sì che vengono apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo dopodiché al suo interno dovremo incollare questa stringa qui. Te la lascio anche nella descrizione del video in modo che, come sto facendo io, tu possa fare il classico copia e incolla. Vado ad incollarla e premo invio ed ecco fatto. Operazione completata e l'anteprima sarà disabilitata rendendo il nostro Windows 10 ancora un pochino più sicuro. Ma alla fine di tutta questa tarantella il mio personale consiglio qual è? Beh non posso che risponderti la stessa cosa che ho detto a tutti quanti i miei clienti che utilizzano ancora Windows 10. Se poco poco hai la possibilità di farlo, aggiorna il tuo sistema a Windows 11. Attenzione perché può essere fatto anche su macchine non supportate. In passato abbiamo visto qualche sistema per farlo e ti preannuncio che in futuro ne vedremo ancora un altro che funzionerà sicuramente anche sulle macchine su cui i precedenti metodi hanno avuto qualche problema. Ma veniamo a noi e anzi veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti e solo proprio per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nonostante la mia ora uccedine e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima! Iscriviti!